buongiorno ci risiamo credevo di non fare video per qualche giorno invece ieri a sorpresa è arrivato un pacchetto che aspettavo cioè che non aspettavo per niente ieri me l'aspettavo lunedì sono addirittura dopo invece è arrivato in sole 48 ore e si tratta del mio nuovo giocattolo tararara non si inquadra vediamo se riesco a far così aspettate ma tremerà un po tutto l'envelop punch board adesso vi spiego bene tutto quello che so che è poco però allora li agganciamo allora io l'ho ordinata su ebay mi è arrivata appunto nella sua confezione che è quella che vedete l'ho ordinata su ebay mercoledì mattina pagata mi pare 19,90 più i 5,90 di spedizione che non sapevo quale fossero tra l'altro proprio ieri mattina non ho neanche controllato se mi ha risposto le figure ieri mattina ho mandato un messaggio al venditore su ebay per sapere se c'era un modo per tracciare il pacco in realtà dopo un'ora mi ha citofonato il portinaio dicendomi c'è un pacchetto per te ok quindi poi comprata su ebay hanno spedito con corriere gls appunto ma una volta arrivato il mio pacchettino c'era dentro il loro biglietto da visita che ci tengo a farvelo vedere perché poi in realtà era un sito hobbycreativi.com che io avevo già visitato così per altre cose quindi l'ho riconosciuto come sito penso che magari qualcun'altra di voi lo conosca già ma io da ebay non avevo fatto caso che fossero loro quindi adesso io andrò a risbirciare il loro sito proprio ufficiale per andare a vedere se trovo qualcos'altro quindi se foste interessati potete andare direttamente sul loro sito io penso che diciamo rapporto qualità prezzo o perlomeno rapporto prezzo velocità ne valga veramente la pena e ripeto 19 euro 90 l'envelop e 5 90 di spedizione con corriere gls 48 ore io lo avevo a casa quindi detto questo è arrivata così tutta bene nella sua scatola originale io la scatola la voglio tenere quindi ho fatto un taglietto solo qua sul fianco e adesso ve la tiro fuori nella scatola c'è appunto allora a parte l'envelop c'è la tabella che in realtà è scritta anche sopra la tabella diciamo di istruzioni con tutte le misure per quanto riguarda le lettere però anche questa è la stessa non so perché c'è 30 volte allora questo arnese nasce per lo scrapbooking lavorazione decorazione di con carta cartoncini chi più ne ha più ne metta e nasce tra l'altro allora questo coltellino lo mettiamo al suo posto nasce tra l'altro per quello che ho capito questa versione è quella azzurra nasce per fare le buste buste da lettera di varie forme di ogni forma ne esistono altre versioni tipo so che c'è quella rossa che ha il punch di fianco cioè sull'angolo quella gialla che servono per altre cose la rossa dovrebbe essere per le scatoline la gialla per i sacchettini e poi vagando qua e la per internet ne ho viste tante di altri magari anche altri colori più piccoli che non so cosa servano sinceramente ma non lasciatevi frenare dal fatto che questa ufficialmente è per le buste ve lo faccio vedere qua perché su youtube allora io l'ho conosciuta tramite il canale di mirarte dopo ve lo linko sotto perché fa tutorial per fare le scatoline con questa poi ieri sera sono andata spulciare qua e la su youtube e ho beccato un sacco di altri tutorial su altri canali anche in italiano sempre per fare scatoline cose varie fiocchettini sacchettini sempre con questa quindi io vi consiglio sinceramente di prendere questa perché a quanto visto è la più diffusa magari nei tutorial e quindi in questo modo riuscite a seguire bene i vari video allora cosa mi serve perché l'ho comprata io non faccio scrap serve appunto come vi ho detto per fare scatoline io la userò per fare le scatoline per le mie creazioni ho già fatto due prove adesso ve le faccio vedere e niente appunto seguendo sicuramente io seguirò il tutorial poi magari proverò a pasticciare un po con le misure non so da un tutorial cambio la misura aggiungo qualche centimetro in modo da provare a farle più grandi più piccole vedremo per ora mi limito a seguire le istruzioni niente allora vi faccio vedere con cosa ha fatto le scatoline anzi ve lo faccio vedere dopo prima vi faccio vedere le scatoline no vi faccio vedere prima con cosa le ho fatte perché ce l'ho più vicino allora io per il momento ho usato i classici vedete cartoncini fabriano da 220 di grammatura quelli che vengono venduti appunto sono di lo dice 25 fogli 5 fogli per colore quindi abbiamo il nero blu verde rosso e giallo che io ho già terminato in realtà per altre cose perché io ci faccio le tag per incastrare gli orecchini allora detto questo non vi so dire cos'altro usare cioè cartoncini sicuramente in un video avevo sentito che diceva che la grammatura andava bene anche da 270 quindi è un po spessa su questo però io non vi dico nient'altro perché proprio non lo sto andatelo a vedere nei video dopo vi lascio il link di video di Mirella che è l'unica che conosco poi ragazze smanettate e sappiamo che su web si trova qualsiasi cosa allora vi faccio vedere la prima prima scatolina che ho fatto che è quella piccola per gli anelli la vedete pasticciata perché? perché è come una ciuccia guardate come una ciuccia volevo provare a fare il mio timbro giustamente dopo che l'avevo montata che quindi non riuscivo a schiacciare bene qua ho provato a rischiacciare e è venuto tutto uno sbaffo quindi questa è quella piccola le dimensioni in realtà non chiedetemele non le ho misurate e appunto adesso dovrò andare a comprare i vari nastrini per fare i fiocchettini vedremo mi devo un po' organizzare e questa diciamo che sempre dal tutorial di Mirella è per contenere magari gli anelli o orecchini a lobo io qua ho messo un rotolino di stoffa di un vecchio fulare ne ho lì una quintalata per mantenere l'anello alto Mirella lo faceva vedere nel video con della carta crespa che sicuramente è meglio perché tiene meglio scusate tiene meglio l'anello io non ce l'avevo e ho usato della stoffa ma vedete che non tiene perché la carta crespa si allarga e diciamo si blocca il tutto nella scatolina comunque tra l'altro questo è l'anello Sephora sempre un tutorial di Mirella e niente questa è la prima eccomi qua devo fare veloce perché si sta scaricando la batteria questa invece è la seconda anche qua non vi so dire le misure è un po' più grande ed è così sempre seguendo un tutorial di Mirella con questa aiuto vieni qua parte all'interno che è comunque incollata per andare ad inserire i nostri orecchini questa è una misura un po' grandicella va bene anche per dei ciondoli e questo è l'effetto finale gli orecchini sono i dillo alla luna di Emanuela Giudato mia amica ciao amore ciao ciao comunque questo qui è appunto l'effetto finale no? la busta sarà chiusa così metterò un fiocchettino uno va a aprire e si ritrova subito l'orecchini davanti vediamo se riesco a farvela vedere veloce veloce eccoci qua eccoci così allora questa è la busta tremerò tutta una la apre e si ritrova i suoi orecchini io ho fatto il mio timbro sotto per personalizzarlo un po' i fori li ho fatti con non ho arnesi per scrap li ho fatti con il normale quella che crea i buchi per i fogli per i raccoglitori quella quella arnese lì da ufficio diciamo normalissimo e basta tutto qua io vi saluto ve la straconsiglio perché è vero che costicchia qualcosina ma neanche tanto sinceramente però se pensate che per tutta una vita continuare a comprare scatoline che anche a trovarle a poco dai cinesi costano un euro l'una questo è tutto quanto speso 25 euro con 25 scatoline non comprate ho già comprato questa e poi si c'è da comprare il cartoncino ogni tanto ma ragazzi 25 appunto con 5 euro io questo qua della Fabriano con 5 euro ho 25 cartoncini e per ogni cartoncino non è che se ne fa una sola cioè vedete qua questo che manca è stato per fare quella piccolina quindi a voglia va bene basta vi saluto che se no si spegne il telefono con il mio nuovo giocattolo contenta tra l'altro c'è lo smalto abbinato e gira che ti rigira parlo sempre del mio smalto fa niente e niente vi saluto ciao un bacione al prossimo video ciao ciao